Buongiorno, io sono la Presidente dell'Associazione Madonna Regina, APS, e noi facciamo ortoterapia e pet therapy. Abbiamo un progetto attivo al Camp My Paura e facciamo fare il orto e anche la Land Art. Vi aspettiamo tutti il 7 ottobre all'antro delle fate, l'inaugurazione dell'antro delle fate, e per far vedere a tutti il lavoro che hanno fatto i ragazzi con disabilità delle varie associazioni e cooperative dei dintorni.